L'età media dell'insorgenza del tumore al seno si è abbassata e colpisce anche tantissime 30-35 anni. Il dato confortante però è che con la prevenzione si può diminuire il rischio di contrarre questo tipo di carcinoma. L'ho affermato ieri Elisabeth Pastor Ruiz, presidente dell'Associazione Fior di Loto, che insieme all'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano, all'Avis, alla Lilte e all'Unità di Sonologia Breast Unit di Marche Nord, ha presentato Ottobre Rosa, un calendario di iniziative che ha l'obiettivo di puntare i fari sul tema della prevenzione e cura del carcinoma mammario. Si va dalle visite specialistiche a una camminata di sensibilizzazione prevista per domenica 17, da una tavola rotonda alla Mediateca Montanari fino ai monumenti illuminati di Rosa e a un buono per una visita senologica gratuita dedicato alle donne che doneranno il sangue al centro trasfusionale. La prevenzione del tumore al seno deve diventare un imperativo per tutte le donne, perché prevenire è salvarsi la vita. Trovare comunque una qualche stranezza nel proprio seno, una difformità, in tempo vuol dire riconoscere quella che è una grave malattia che si può curare. Una cosa alla quale teniamo moltissimo quest'anno è dedicare tutta la nostra attività alla presidente di Fior di Loto che è venuta a mancare proprio quest'anno, Alida Battistelli, che era anche una pittrice, che ha realizzato quest'opera e con la quale abbiamo fatto le spillette che distribuiremo durante tutto il mese nelle nostre attività, proprio perché il suo impegno è stato importante ed è un momento anche di riconoscenza per lei, per tutto quello che ha fatto in questi anni, per le donne di questo territorio. Il Covid, ha ricordato il dottor Cesare Magalotti, ha limitato la prevenzione, per questo serve una campagna di informazione forte per far sì che si possano aiutare tante donne. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi all'ospedale Santa Croce sono stati operati 300 tumori alla mammella. Tutte le pazienti e anche i pazienti, ci tengo molto a precisare anche gli uomini, possono esaurire di questo servizio quello di avere una vista specialistica, basta chiamare al numero che è segnato sui vari fogli diffusi, ad esempio l'associazione Fior di Loto, che è una associazione di donne operati al seno qui di Fano, sono disposte a prendere i nominativi e poi noi tutti i mercoledì di ogni settimana, del mese di ottobre, dalle ore 13 alle ore 16 facciamo regolarmente le visite senologiche gratuite in ospedale, qui a Fano.